Sergio Briguglio ci scrive una lunga email molto approfondita che poi magari le lasceremo. Pone il tema dell'accesso al pubblico impiego come rilevante ai fini della piena integrazione dei cittadini stranieri in Italia e le chiede, è disposto a farne uno degli obiettivi del suo mandato? Bisogna cercare di affermare alcuni principi attraverso dei percorsi. I principi, anche l'obiettivo del mio ministero è quello di affermare, di riconoscere che la diversità è un valore. Quella di riconoscere che la diversità ovunque sia, sia un valore. E quindi cercare anche di proporre, di promuovere anche iniziative, proposte che vadano in questa direzione. Rafforzare la diversità in tutti i luoghi, rafforzare la diversità. Questa è anche un'idea di una cittadinanza nuova, un'idea di una nuova cittadinanza che deve cercare di rafforzare anche visibilmente quello che noi conosciamo già, la composizione dell'Italia che è cambiata. Dal 1990 ad oggi siamo passati a poco più di un milione di cittadini migranti a quasi 5 milioni di abitanti. Lo vediamo nelle scuole, lo vediamo negli ospedali, lo vediamo ovunque. E quindi credo che noi dovremmo dare la risposta a questa, affermare la diversità come un valore e una risorsa.